Non ha paura di parlare la comunità islamica pescarese. Sono sereni nel dire che gli atti terroristici di Parigi sono lontani dalla loro religione e spiegano come la preghiera sia invece un modo per purificare corpo e anima dalla possibilità di compiere atti negativi. È questo il senso del Corano. In questa situazione ovviamente cerchiamo di spiegare qual è l'ideologia, soprattutto la religione islamica e qual è la differenza con quelli che sono gli atti di Parigi. Forse loro hanno cose diverse, mentalità diverse da noi, non lo so. Abbiamo un stesso religione però non ci abbiamo d'accordo con loro. A parlare il rappresentante dell'associazione culturale islamica ANNOR, con sede in Via Pisa, qui si riuniscono ogni venerdì per pregare insieme. Qui si insegna la cultura islamica e il fondamento di una vita giusta e corretta. Noi cerchiamo solo per spiegare qual è la nostra religione, che cosa dicono il Corano, queste cose qua, per spiegare, per dare lezioni, che cosa dicono il Corano, qual è la nostra religione, queste cose qua. E c'è paura adesso, in questi giorni? No, noi non abbiamo nessuna paura. Hanno lavori comuni, vivono in mezzo ad altre religioni e non sentono il pericolo intorno. Dopo i fatti di Parigi nessuna allarme, nessuna paura a farsi vedere insieme oppure in preghiera. Una preghiera che si svolge cinque volte al giorno. In regione muslimano si svolge cinque preghiera al giorno, una la mattina, diciamo una mezzogiorno, ci sono due mattina, una mezzogiorno, ci sono una dopo verso le quattro, una verso le sei e dopo una alla cina. Ci sono cinque preghiera. E che succede se uno non ne fa una delle cinque? Ma non ci si... questo è un conto suo, capito? Si si è sempre pulita, diciamo l'islam, quella è una cosa per pulire il corpo, per non far pensare male, per marzare le gente o far robare, fa... Sempre tu preghiera, sempre una, diciamo, una paura che fa una cosa male. Per domani è stata organizzata una fiaccolata simbolica nella centralissima Piazza Salotto, proprio per manifestare contro l'orrore degli attentati terroristici. La Digos fa sapere che dal Ministero è giunto l'ordine di attenzione alta a Pescara, così come in tutta Italia. Forze dell'ordine e comunità islamica sono in contatto. Tra Pescara e Montesilvano si contano 5.000 presenze, tra marocchini, senegalesi, macedoni e algerini. La fiaccolata di domani non è considerata un obiettivo sensibile, ma nonostante questa, a vigilare ci saranno presidi delle forze dell'ordine.